Oggi 5 gennaio sono iniziati i saldi, ma tra la crisi dovuta dal rincaro delle bollette, dovuta dal rincaro dei beni di prima necessità e dal caldo anomalo che quindi rende difficile vendere l'abbigliamento invernale, andiamo in giro per la città a vedere com'è la situazione. Come vede il periodo dei saldi a Fano? Un po' così così, lo vedo un po' così così, però dai, visto che avremo ancora dell'inverno davanti, visto le previsioni che non sono di estate, ma bensì di un arrivo dell'inverno, direi che è il momento buono per i primi approcci. E pensa che i fanesi spenderanno parecchio? Moltissimo spenderanno i fanesi, il buon fanese penso che non rinuncerà mai a un buon vestito in saldo. Che cosa comprerai per questi saldi? Non lo so, ma penso niente. Andiamo a risparmio? A risparmio perché devo andare in vacanza. Preferite comprare nei negozi, adesso che sono iniziati i saldi soprattutto, o su internet? Dipende da quello che devo comprare, faccio una ricerca e poi decido. Voi che cosa comprerete? Ma penso abbigliamento, cose per la casa. Non abbiamo già comprato delle scarpe. Guardi, ho dentro mia moglie che sta acquistando, penso, dei jeans e un dolce vita per lui. Abbiamo già acquistato anche le scarpe, benvengano anche questi saldi, insomma. Più che altro, ecco, allora i saldi e poi il fatto di poter essere in vacanza. Come avete trovato i prezzi? I prezzi ottimi, perché sinceramente, ad esempio, guardi, i dolce vita sono scontati al 50%, quindi... E poi al di là della percentuale, che vuol dire tutto, non vuol dire niente, però anche il prezzo comunque è ottimo, quindi è il momento migliore per fare degli acquisti. I saldi sono appena iniziati, previsioni? Previsioni. Dai, cerchiamo di essere positivi, ottimisti per questi saldi. Guardando il meteo, comunque, le temperature si abbassano fortunatamente adesso, durante la metà di gennaio. Al via la vendita dei capi invernali. Esatto, avremo modo di vendere un po' di invenduto che c'è stato proprio per questi caldi anomali. Che cosa hai comprato in questi saldi? Una tuta, due tute, una di Capitale America, di Ario Man. Tutti supereroi? E anche calzetti. Secondo me anche tu sei un supereroe, tutti i bambini sono supereroi. Sei d'accordo? Sì. Continui a fare acquisti? Sì. Con la mamma? Sì. Tu compri e la mamma paga? Sì. Si erano fatte delle proposte di posticipare i saldi, che cosa è successo? Ma la proposta è rimasta ferma lì e sono partiti normalmente come sempre. Secondo noi sarebbero da ritardare come una volta da farli partire a fine febbraio e fine agosto. Soprattutto perché è stato molto caldo finora e lo è tuttora. Sì, perché con questi cambiamenti climatici si è spostato tutto in avanti, per cui è inutile cominciare subito dopo Natale, quando ancora deve partire la stagione in pratica.